Sono nel Delta del Po un ambiente di transizione, è un termine che viene usato nel Delta per diversi ambienti, perché come diceva Simone la nostra è una terra estremamente giovane, è una terra che ha meno di 2000 anni, è vero che 2000 anni per l'uomo sono molti, ma è anche vero che al confronto dei 4 miliardi e mezzo di anni della Terra i 2000 del Delta sono uno schioppo di dita, insomma sono proprio veramente poca cosa. E questi ambienti di transizione, insomma il primo che si forma è la laguna che diventa un bacino di acqua salmastra dove il fiume manda dentro la sua acqua carica di sabbia e di lima e di argilla e il mare manda dentro la sua invece la sua acqua salata. Si crea questo ambiente tranquillo, poco profondo di acqua salmastra che è sulla faccia della terra, uno degli ambienti più produttivi che ci sia. Possiamo dire che se magari il cinema ci fa conoscere i luoghi che sappiamo tutti, anche sul Delta, tanti bei film sono stati ambientanti qui, la letteratura fa altrettanto con le parole scritte, allora certi luoghi diventano eterni. Lo facciamo con le parole di Giovanni Comisso, siamo negli anni venti, lui appena tornato dalle sue avventure guerresche sul Monte Grappa prima e a fiume poi si trova a Chioggia, laguna sud, noi tra l'altro proveniamo da lì e descrive così la città. Sono parole luminose, molto definite, sembrano quasi dipingere una veduta da questo punto di vista, prima Zandotto citava il vedutismo, questa grande tradizione pittorica veneziana e queste parole sono quelle di un reportage lirico. Cosa è la laguna che vuoi? Diciamo che questa sera abbiamo provato a realizzare un percorso, un percorso di testi che andasse in qualche modo a scandagliare le varie immagini e le varie interpretazioni di questo luogo fisico che è la laguna, che è appunto un luogo fisico ma può essere anche un paesaggio interiore e anche un paesaggio umano e attraverso questo percorso abbiamo provato un po' a declinare queste varie lagune, questa pluralità di lagune e insomma speriamo che chi ci ha ascoltato questo abbia fatto scaturire qualche curiosità in più. Sì, infatti abbiamo provato a cucire un percorso partendo da un quadro generale descritto da Andrea Zanzotto, il poeta di cui ricorre il centenario della nascita quest'anno e attraversando le voci di Comisso, di Piovene, di Parise, di Scarpa fino ad arrivare ad uno scrittore contemporaneo che tra l'altro è alla mia a destra e si chiama Sandro Frizziero casualmente. Ecco, speriamo di aver offerto qualche suggestione al pubblico che mi sembra avesse gradito e la risposta ce l'aspettiamo, insomma ci aspettiamo che senza didascalie tra un testo e l'altro poi le persone vadano a scoprire questi autori o a riscoprirli e a leggere anche altre voci perché sicuramente la laguna offre numerose indicazioni suadenti, le chiamava Zanzotto. Grazie